Grazie Grazie Grazie, sono commosso anche perché non ne prenderò mai uno vero Per cui Mi si chiede Qua, sono qua Cina sono qua Grazie Mi si chiede di Di vivere Di fare un gioco come quello degli Oscar Che è fatto con Tiriamo fuori Delle nomination, so che sono stati fatti Gli andati dei voti, credo tutti truccati Che poi, non so, i voti veri Quelli che sono la base di ogni concorso Allora dice che dobbiamo dividere Alcune canzoni che io ho scritto Questa per esempio dice categoria migliore regia Nomination Allora c'è La regia è, diciamo Un po' l'accadimento Come il film viene studiato In tutti i suoi aspetti Allora qui mi dicono che questo potrebbe essere Che potrebbe arrivare a prendere un premio Questo pezzo Invece che io riesca a suonarlo Questo qua, insomma, no? Vecchi sulle panchine dei giardini, succhiano fili d'aureo quanto dico, il segno del cappello sulle teste da cucini, i vecchi mezzi cecchi, i vecchi mezzi su. Questa è la prima nomination, la seconda è questa, perché anche Puglielo, non troppo. 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 Puglielo. Puglielo, non troppo. Puglielo. Puglielo. Puglielo, non troppo.